Rischio paralisi per l'Ufficio per la ricostruzione del cratere all'orizzonte. Scade oggi, 30 novembre infatti, il contratto con cui nel 2012, dall'allora governo Monti, fu assegnato l'incarico a Paolo Esposito, di origine abruzzesi e con una lunga esperienza nel campo del giornalismo, di coordinatore del cosiddetto USRC, Ufficio per la ricostruzione del cratere appunto. Oltre a coordinare i singoli uffici territoriali della ricostruzione, dei comuni del cosiddetto cratere sismico e persino di quelli che in esso non vi sono ricompresi, che sovrintendono i processi di rinascita dei singoli centri storici, l'Ufficio speciale, guidato da Esposito nel corso degli anni, ha acquisito sempre maggior peso, soprattutto dal punto di vista della gestione delle risorse economiche. Processi che, inevitabilmente, andrebbero a bloccarsi qualora non arriva il più presto un provvedimento di proroga del contratto, che però, dal Ministero, dovrebbe essere ancora formalizzato. Più difficile, ma non impossibile, la scelta di un funzionario diverso da Esposito, che lo andrebbe a sostituire e che avrebbe bisogno di tempi fisiologici per comprendere fino in fondo il funzionamento di una macchina che, dopo oltre tre anni, sembra ormai rodata. In ogni caso, dal primo dicembre, scatterà un periodo di vacazio, in virtù della quale la firma sui documenti e i piani di ricostruzione non potrà più essere apposta, a meno che non arrivi una proroga dell'ultimo minuto o, in alternativa, la nomina di un incarico protempore da affidare ad una figura ancora da individuare. In ogni caso, un bel rebus da sciogliere all'interno del Ministero per non rallentare attività e processi che, a quasi sette anni dal sisma, non possono subire ulteriori rallentamenti. Grazie a tutti.